Ciao a tutti, qua Leo, World Game Tube e continuiamo il World Route di DMC con la missione 10 intanto abbiamo appena preso il Devil Trigger stiamo andando verso la torre televisiva dove dobbiamo sconfiggere il Super Mega Demone per raggiungere Mundus e aprirgli il culo adesso vediamo un po' cosa succede eh, lo sappiamo che ha un punto debole quello non interessa ah, il puttanone ho arredo, Dio mio no, non l'ha, se la trombe basta scusate, questo sottofondo è un po' brutto c'ho la sedia che trema un po' esagerato, è anche un rutto ah, c'ha il bimbo andiamo a spaccare il culo evitiamo che si riproduca eh, lo so eh, andiamo, andiamo, andiamo e beh, certo, se mi ammazzo il figlio figurati te se non incazza e non attacca il mondo per uccidere me comunque adesso andiamo, andiamo apri la strada vediamo un po' che succede allora la testa in giù me lo fai giocare a questo livello? no, eh cazzo la testa in giù e che quale vabbè, una strada dritta non provo a saltare perché ho paura di cadere non so l'effetto gravità poi è molto più scenico e mo' già non ho visto? sto attaccando il ponte noi siamo sul ponte porca merda beh, almeno abbiamo la telecamera dritta adesso eh, già visto ci divertiamo un po'? un po' di platforming ma sì, dai spacca il platforming vedà questo bastardo ce l'ha con me via, via, corri Dante sei lento merda no cazzo fai entriamo in sta televisione, va raptor news dai fai vedere la tua bella faccia da cazzo ah, quanto sei bello non vedo l'ora di ucciderti mi stavi sul culo già dai primi filmati che avevano rilasciato e sono piattaforme figata fighiatissima proprio fighiatissima proprio dobbiamo addentrarci nell'intro televisivo ah, le scelte stilistiche di sto gioco sono a dir poco fantastiche mi piacciono un delirio oh smash secondo me c'è una boss fight la butto lì c'è la testona dell'imbecille beh, io qualche dubbio ce l'ho però apriamo come posso trucidarti? quello che personalmente penso di terroristi è che sono disgustosi dai che terroristi siete voi le testi di cazzo siamo depravati siamo depravati il mondo intero trarrebbe grande vantaggio alla sua non esistenza ah, sì è vero eh, come è? aspetta di danno però ho preso la vita a quanto è bella che cazzo fa? oh no, intanto ci togliamo un attimo almeno ho capito come fa di danno lì la vita gli va giù easy va, va, va giù tutto mi vuole da qui a continuare a sentire danni qui oh, è rotto le balle qui ah, mi sei riformato ok vedo pariamo un po' la distanza perché non puoi entrare un sacchietto non lo so vai, piccolo oh via la prima barra mi devo grabare sfuma su questo dove cazzo? questo è un recente video veramente scioccante del terrorista conosciuto come Dante ah, va bene dunque cosa sappiamo di questo dato? bella si sono fatte avanti diverse persone e gli investigatori hanno ricostruito una scioccante storia di violenza all'età di otto anni ha aggredito e ucciso la responsabile per l'erfantropio saltalano era conosciuta come una dolce anziana signora che adorava lavorare con i bambini tra gli undici e i quindici anni è fuggito da non meno di otto strutture di detenzione no stavo giocando da dio bastardi traffico di droga quanto sei deficiente vai a fare il culo va questo gioco è awesome oh oh ma è già riportato da lui? e che palle stavo divertendo Fai qualcosa per l'alitoli, oh, un po' schifo Smash Devo disattivare più di uno Smash E' bellissimo E' davvero bellissimo Ora di andarsene E' questo Questo con le porticine Succhietta Succhietta Scusate, ho disattivato Devo farlo ancora, no Dai, come giornalista fai veramente schifo E anche come boss non sai che non che Scusate che ti grabbo Oh oh Ah no, vabbè, perché stessi sono nemici normali Ho iniziato a uccidere gente A un certo punto mi ha guardato tre con il lotto E' stato terrificante Aveva bisogno dei propri occhi Da pedossi Ho visto una ragazza che Tipo, pregava per la sua vita Ma, tipo, lui ha detto che l'avrebbe uccisa comunque E l'ha uccise Merda Dopo quell'orribile attacco Si è scoperto che Dante è coinvolto nell'organizzazione terroristica chiamata Non ho un messaggio per noi Certo che sono coinvolto Beh, non è che non siamo terroristi Merda Ogni forza di polizia nel paese è in tutto il mondo Niente smash Sbagliato Merda Fanculo Hop Bob E' un piacere tornare da te Interrompiamo la trasmissione per le ultime notizie E mo? E le squadre SWAT stanno sferrando l'attacco proprio ora Oh cazzo Questo è un problema Questo è un grave problema Sappiamo che due dei terroristi identificati in queste immagini si trovano nell'area Bastardi Un terzo terrorista è stato bloccato in un'altra zona in una diversa operazione di polizia Statene certo Eh sì I responsabili saranno consegnati alla giustizia da un momento all'altro Beh, intanto ammazziamo Bob e poi... Vaffanculo Non avete scalpo Tutti voi Vi schiaccieremo Lo faremo in diretta Lo faremo in diretta Ma tutti vogliono pisciare su di me? Com'è che il pissing è così apprezzato in tutto il gioco? Eh, ninja theory Ed è una passione delle pratiche fetiche Da dire eh, i gusti sono gusti Però si continua a fare una cosa Per un po' Merda Due Andare a fare il terzo Ahia, Cristo Merda Finocchio Mi arriva un po' più vita Due Ma tutte le volte Che stai spusata eh Facciamo prima fare così Più che altro perché così mi cura anche la vita Smash Che cazzo Vaffanculo Bob Fottiti È venuto il momento Di darti Bella La ripassatina Veloce Oh cazzo Che cazzo ti ci vuole a crepare Oh merda ancora Basta Uh, uh No Pazzo di Buddha Muori uno Muori due Vaffanculo E adesso Muori E non rompere il cazzo Ultime notizie Bob Sei licenziato Ti ha fatto male? Troppo poco secondo me Succhia Direi che l'affermazione giusta è Succhia E dammi un nuovo potere Dammi un nuovo potere Dammi un nuovo potere Dammi un nuovo potere Uh, figo Me gusta Me gusta assai Ora ti puoi Gentilmente cavare al cazzo Bob Fai la prossima mossa Se vuoi Hai già pensato Ah, parliamone Non ne sono così convinto Aquila Nelle velocissime Vabbè Ci saranno i castati Decollezionabili Da prendere qua Ah, punto Cazzo Non è che vedere GZZ00 Il voto finale è SS Ah, ci sta Va bene Prendiamo i punti Del potenziamento Che fanno comodo Io vi saluto E niente Ci vediamo con il Prossimo capitolo Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti